Di nuovo sangue, a Palermo si torna a sparare e uccidere alla vigilia del 25 annale della strage di Capaci. Freddato alle primore di questa mattina il boss Giuseppe Dainotti, ucciso con dei colpi alla testa mentre era in bici da due killer in moto. Molto battuta la pista della vendetta interna al clan. Mafia dell'ortofrutta avrebbe agevolato il dominio della famiglia mafiosa dell'Acqua Santa sul mercato ortofrutticolo di Palermo. Ennesimo sequestro ai danni dell'imprenditore Antonino Ingrassia, sequestrati beni per 5 milioni e mezzo di euro. Strappate all'illecito, opere d'arte sequestrate destinata ad essere esposte nell'aula bunker in occasione del 25esimo anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. I reperti in mostra, precedentemente trafugati e recuperati dai carabinieri del patrimonio culturale, rappresentano un chiaro messaggio di legalità. Sognando il closing, Palermo questa sera impegnato nel posticipo in casa del Pescara che non desta alcun interesse. Attenzioni rivolte esclusivamente alla chiusura delle trattative tra Zampanini e il gruppo di Paul Baccaglieni. Entro il 29 aprile attesa la firma sulle carte e intanto annunciato closing. Buonasera e ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Avete appena sentito i titoli d'apertura e allora andiamo subito ad aprire con la cronaca con quello di cui si è parlato per tutta la giornata fin dalle prime ore della mattina. Palermo si è tornati a sparare e ad uccidere. Colpi d'arma da fuoco questa mattina in via Dossuna scagliati da due killer nei confronti di Giuseppe Dainotti, boss di Portanova scarcerato tre anni fa. Su di lui pendeva una condanna a morte. Ce ne parla Lorenzo Ampuso. Il sangue che torna a macchiare l'asfalto, i bossoli ancora fumanti a pochi passi da un altro cadavere. Nel giorno della vigilia delle commemorazioni della strage di Capaci, Palermo è stata svegliata dal boato dei colpi di pistola così come avveniva 30 anni fa. La vittima è il 67enne Giuseppe Dainotti, boss di Portanova e storico braccio destro del capo mafia Salvatore Cancemi. Alle prime luci dell'alba di oggi i residenti di via Dossuna hanno chiaramente udito l'inconfondibile esplosione di colpi d'arma da fuoco scagliati su Dainotti mentre era in bici da un commando di due killer in moto a volto coperto che lo hanno raggiunto direttamente alla testa freddandolo all'istante. Queste le prime indiscrezioni dalla scena del crimine tratti cristallini di un'esecuzione mafiosa di un regolamento di conti interno a Cosa Nostra. Dainotti d'altronde si trovava da tempo nel mirino di alcuni picciotti che aveva in qualche modo disturbato. Arrestato il 28 gennaio 1998 e condannato nel 2001 all'ergastolo per implicazioni dirette negli omicidi dei carabinieri Basile, D'Aleo, Bonmarito e Morici, Dainotti riuscì a beneficiare della legge Carotti in vigore dal gennaio al novembre 2000 accettando il rito abbreviato e vedendosi ridotta la pena a 30 anni di carcere. Dopo un secondo provvedimento notificato gli proprio nel novembre 2000 per aver partecipato alla rapina miliardaria all'ufficio credito subpegno della Sicilcasse di Palermo datato 1991, Dainotti venne scarcerato nel 2014 con da allora una X sul petto messagli da Giovanni Di Giacomo. secondo quest'ultimo infatti Dainotti avrebbe riferito a fatti non veri sul suo conto screditandolo agli occhi di tutto il mandamento. Uno che metteva tragedie, dicevano di lui, uno che andava eliminato. E così è stato questa mattina. Ancora tutto è da chiarire la dinamica dell'agguato e movente degli assassini. Di certo c'è solo che Palermo anche a poche ore dai 25 anni dai fatti che cambiarono una terra intera rimane costretta ad assistere alla violenza e al sangue versato. sequestrati beni per 5 milioni e mezzo di euro ai danni dell'imprenditore palermitano Antonino Ingrassia destinatario di un altro sequestro da 250 milioni però nel 2014. L'accusa è di aver agevolato il controllo della famiglia dell'Acqua Santa sul mercato ortofrutticolo nel capologo siciliano. Già coinvolto nel 2014 nelle indagini economico patrimoniali sul mercato ortofrutticolo di Palermo l'imprenditore Antonino Ingrassia torna ancora una volta sotto la lente di ingrandimento della dia del capologo siciliano. Sequestro di beni questa mattina per 5 milioni e mezzo di euro. Ingrassia insieme allo zio Giuseppe Pietro Lafata e Carmelo e Giuseppe Vallecchia era stato accusato di aver agevolato attraverso le loro aziende il controllo della famiglia mafiosa dell'Acqua Santa capeggiata dai Galatolo sul mercato ortofrutticolo di via Monte Pellegrino anche con l'imposizione dei prezzi dei prodotti. Le indagini dei investigatori della direzione investigativa antimafia avevano infatti permesso di porre i sigilli su un patrimonio societario immobiliare e finanziario per un valore complessivo pari a ben 250 milioni di euro. Con l'odierno provvedimento frutto di ulteriori accertamenti la sezione misure di prevenzione del Tribunale Palermitano ha posto i sigilli su 12 unità tra immobili e terreni tra Palermo e Ficarazzi riconducibili all'azienda Impero Edilizia SRL già in passato sequestrata. Ancora mafia ha denunciato i propri estorsori dopo 17 anni di continue vessazioni e richieste di denaro. Un imprenditore di alto fonte ha raccontato tutti i carabinieri che hanno piazzato nel suo ufficio le telecamere per incastrare in flagranza di reato il riscossore del pizzo. Sentiamo. Una nuova operazione antimafia che spezza il silenzio della macchina estorsiva grazie alla denuncia di un imprenditore di alto fonte. In manette per associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata Salvatore Racuglia, Salvatore Labarbera, Andrea Di Matteo e Giuseppe Serbino. Dopo 17 anni di minacce e richieste di pizzo, un imprenditore ha raccontato tutti i carabinieri ricostruendo le dinamiche della famiglia di alto fonte ed identificandone il vertice proprio in Racuglia. L'operazione Eppiolidei sei nata in seguito agli arresti scattati nel marzo del 2016 che avevano azzerato i vertici del mandamento di San Giuseppe Iato e delle dipendenti famiglie mafiose. In quell'occasione furono arrestati Di Matteo e Serbino per i reati di associazione di tipo mafiose ed estorsione. Grazie alla collaborazione dell'imprenditore, i carabinieri hanno piazzato le telecamere nel suo ufficio, registrando la conversazione e la consegna del denaro. Una volta uscito, i carabinieri di Monreale sono intervenuti arrestando la Barbera nella flagranza del reato di estorsione, recuperando complessivamente 1.500 euro, frutto anche di altre riscossioni. Ritrovate e sequestrate inoltre nella sua abitazione un'agenda contenente il resoconto del ricavato del pizzo ad alto fonte destinato al mandamento mafioso di San Giuseppe Iato per il sostentamento delle famiglie dei detenuti. Gli investigatori hanno documentato le strette relazioni con esponenti di spicco di Palermo e San Giuseppe Iato e hanno poi documentato la posizione di Di Matteo, Serbino e la Barbera come riscossori del pizzo, mentre Racuia rappresentava il regente della famiglia mafiosa di alto fonte. Percorrevano la provinciale 81 che collega Castelvetrano a Triscina a bordo di una Fiat Stilo quando per causa è ancora da accertare l'auto ha sbandato e dopo aver sfondato una rete metallica di recinzione è finita in un appezzamento di terreno abbattendo tre alberi di olivo alcune palme alte tre metri. Nel terribile incidente accaduto nella tarda notte di ieri ha perso la vita Filippo Giaramita di 34 anni, conducente dell'auto, mentre il compagno di viaggio Filippo Frazzetta di 33 anni è rimasto gravemente ferito. Arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato i due giovani fuori dall'abitacolo e dopo aver constatato la morte di Giaramita hanno trasportato Frazzetta all'ospedale di Castelvetrano in codice rosso. Cambiamo decisamente argomento parliamo di G7 Sopralluogo oggi a Taormina di Maria Elena Boschi, sottosegretaria della Presidenza del Consiglio che in conferenza stampa ha anticipato alcuni fra i temi delle G7 in programma il prossimo weekend. Sentiamo. L'Italia è pronta a presentarsi al mondo con meraviglia e stupore. A dirlo Maria Elena Boschi, sottosegretaria della Presidenza del Consiglio che in una Taormina già blindata ha presentato in conferenza stampa il summit del G7 in programma nel prossimo weekend. Durante la presentazione dell'evento, la Boschi ha sottolineato l'azione del governo volta a superare tutti gli stereotipi datati sulla Sicilia spiegando come tutti i ritardi siano stati superati grazie a un grande lavoro interforze. La città, ha detto, è stata rimessa a nuovo e darà un'immagine meravigliosa di sé agli occhi del mondo. Poi si è scusata con i cittadini per i disagi nella certezza ha spiegato che tutti i sacrifici verranno ricompensati con un ritorno significativo per il turismo e l'immagine. Sui cortei e sulle manifestazioni previste durante il G7 il sottosegretario ha ribadito che chi protesterà dovrà farlo nel rispetto delle regole assicurando che i piani per affrontarli sono già pronti. Tra i temi previsti del summit anche quelli della lotta alla violenza sulle donne e delle pari opportunità. Intanto da oggi Taormina è totalmente inaccessibile. Da ieri sera anche gli ultimi turisti hanno lasciato la cittadina mentre per tutta la settimana l'accesso sarà consentito solo ai residenti ai lavoratori impegnati nelle attività commerciali e negli uffici e ai abdetti ai lavori del G7. Imponente il servizio di sicurezza che è ben impegnato ai militari di tutti i paesi partecipanti al Vertice. Ancora politica questa volta però prettamente siciliana. Archiviata dal giudice delle indagini preliminari di Palermo Filippo Serio ha la posizione di 45 tra deputati e dirigenti amministrativi dell'Assemblea regionale siciliana coinvolti nello scandalo delle cosiddette spese pazze della scorsa legislatura. La decisione è arrivata su richiesta della Procura di Palermo tre anni dopo lo scandalo che ha visto imputati per peculato l'attuale presidente dell'Assemblea Giovanni Ardizzone l'ex presidente Raffaele Lombardo ed Antonello Cracolici assessore regionale all'agricoltura tuttora in carica. Per il GIP non c'è stato dolo da parte degli imputati. E voltiamo pagina reperti artistici sequestrati dai carabinieri e strappati dai traffici illeciti. Sono arrivati ieri all'aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino per andare a comporre nella giornata di domani una mostra nell'aula bunker in occasione del 25esimo anniversario delle stragi di mafia. Sentiamo. Opere d'arte dal forte significato simbolico perché salvate negli anni dai traffici illeciti della criminalità internazionale. Sono arrivati ieri all'aeroporto palermitano Falcone e Borsellino i reperti artistici recuperati dal comando dei carabinieri del patrimonio culturale che andranno a comporre domani per un solo giorno la mostra Fidelis nell'aula bunker del carcere Ucciardone proprio in occasione del 25esimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. La Fondazione Falcone Open Group e Fear Social Life uniti in una richiesta di nuovo patto per la fiducia nel Paese nel giorno del ricordo che da memoria il 23 maggio possa trasformarsi così nel nuovo compleanno della fiducia del Paese. Il miglior modo secondo noi secondo tutti noi insieme di celebrare l'insegnamento che fu di Giovanni Falcone di Carlo Alberto dalla Chiesa di Paolo Borsellino ma anche un'occasione per dare una nuova fiducia per una nuova generazione per i prossimi 25 anni. Noi siamo qui oggi perché il lavoro su cui la Repubblica si è fondata è il lavoro che marciò insieme 25 anni fa dopo la strage di Capaci perché i sindacati marciarono insieme dopo quella strage il lavoro oggi prova a ricostruire un nuovo patto per il Paese. Si tratta del Giardiniere di Vincent Van Gogh dalla GAM di Roma e per la prima volta a Palermo il concerto di Bartolomeo Manfredi è la seicentesca danneggiata dalla bomba della strage dei gergofili a Firenze la testa di Ade terracotta del IV secolo a.C. e la stella di Palmira. Questa esposizione racconta una e tante storie d'Italia racconta la storia antica d'Italia antica e recente questo vuole essere una testimonianza che rispetto al traffico di reperti di opere d'arte che molto spesso viene gestito dalla criminalità organizzata c'è una risposta dello Stato molto forte La mostra da mercoledì sarà spostata presso la caserma Carlo Alberto dalla Chiesa di Palermo dove potrà essere visitata fino al 10 settembre E siamo allo sport il calcio antipasto di Serie B questa sera per il Palermo di Bortoluzzi impegnato nel posticipo della 37esima giornata sul campo del Pescara entrambe squadre retrocesse domenica prossima ultima in casa contro l'Empoli e intanto attenzioni tutte rivolte al closing Lorenzo Ampuso Il grigio presente del Palermo che però rappresenta già il passato sullo sfondo di una trattativa di cessione del club lunga ed estenuante ma che sembra stia per imboccare l'ultima curva prima del traguardo Il match di questa sera tra Pescara e Palermo sarà niente di più di una prova generale per la Serie B dell'anno prossimo Si affronteranno le due conclamate peggiori squadre del campionato per di più in un confronto che non vale neanche un ingresso gratuito allo stadio E' il finale di stagione che il Palermo ha scelto per se stesso dopo un'annata costellata da sconfitte e prove indegne della categoria Un ulteriore rimpianto alla striscia di risultati utili che dura da tre giornate con il calendario che ha già investito Irosa del ruolo di arbitro della salvezza Domenica infatti ospite del Barbera sarà Lempoli in una sfida anche quella dove si potrebbe gareggiare per chi vorrà maggiormente perdere se Lempoli per intascare anche lei il paracadute retrocessione o il Palermo che qualora fossero i Toscani a retrocedere e non il Crotone incasserebbero automaticamente meno Meglio pensare allora alle sale dei Bottoni dove si sta discutendo il passaggio di mano da Zamparini a Baccaini atteso per domani massimo mercoledì il via libera delle banche londinesi all'acquisto del club di Viale Delfante da parte del gruppo di investitori capeggiato dalla ex Iena che però potrebbe anche sorprendere tutti cambiando società di acquisizione non più la YW&F Global Limited ancora non iscritta ad alcun registro o d'impresa per una ragione sociale più consona ad una realtà amministrativa di una società calcistica quella contro Lempoli potrebbe dunque essere la prima vera partita del nuovo Palermo Calcio ma anche l'ultima di un'annata tra le più orribili nell'intera storia rosa-nero è ancora sport ma è ancora calcio ma cambiamo categoria tanta sofferenza e un paio di miracoli decisivi del proprio portiere permettono all'Akragas di strappare uno 0-0 fondamentale nella gara d'andata del play-out di Lega Pro in casa del Melfi occasione a pioggia per i padroni di casa che si ritrovano davanti un pasquale pane in stato di grazia capace di ricacciare in gola in almeno tre occasioni limpide l'urlo di gioia dei Lucani nessun pericolo creato dagli agrigentini di Lello di Napoli in attacco che sono riusciti comunque a portare a casa un risultato che permetterà loro di salvarsi anche in caso di ulteriore pareggio domenica nella gara di ritorno dell'esseneto in virtù della migliore classifica finale Cambiamo sport derby all'insegna del rispetto e della sana competizione ieri a Palermo dove ai campi ribolla si sono affrontati i Cardinals e gli Sharks nell'ultimo turno di stagione regolare del campionato di terza divisione di football americano decisa affermazione degli ospiti in bianco-blu impostesi sui Cardinals per 45 a 6 touchdown nel primo tempo del Todaro Covello Mondi Bravatà e Ligio seguite nella ripresa da quelli di Le Quaglie che accorcia per i padroni di casa il field goal dello specialista d'arpa e l'ultimo touchdown del match segnato da Di Piazza che ferma il tabellone grande prestazione del quarterback Sharks albanese che ha finito per trascinare i suoi alla sedicesima vittoria consecutiva e all'imbattibilità che dura ormai da oltre due anni la stagione dei Cardinals si chiude con il quarto posto nel girone mentre quella degli Sharks proseguirà con i playoff di conference contro la vincente della wild card tra Napoli e Catanzaro in programma il prossimo 11 giugno al Fabazza di Terrasini e questa era davvero l'ultima notizia io vi ringrazio naturalmente per averci seguito e adesso vi lascio una breve selezione di notizie dall'Italia e dal mondo e seguire il meteo arrivederci l'Italia promossa per il 2017 ma deve impegnarsi con sforzi sostanziosi per il 2018 lo fa sapere la Commissione Europea nelle proiezioni di primavera bene dunque la correzione dei conti da 3,4 miliardi di euro e nessuna sanzione per quest'anno ma per il prossimo dice il vicepresidente Dombrovoskis l'Italia dovrà seguire le raccomandazioni su fisco corruzione e banche in particolare aggiunge servirà passare la prima casa per i redditi più alti e proprio su quest'ultimo punto immediata replica del ministro dell'economia Padoan a cambiare idea su una tassa da poco cambiata non è una buona idea ha detto il premier Gentiloni invece interviene sulla revisione delle stime sul PIL effettuata oggi dall'Istat il 2017 si chiuderà a più 1% e non lo 0,9 come da precedente stima messaggio di ottimismo commenta Gentiloni ha confessato consegnando anche l'arma del delitto il 17enne incensurato fermato per l'assassino del coetaneo Matteo Barbalinardo scomparso da giovedì scorso è rinvenuto ieri in un cantiere a Marconia di Pisticci nel Materano la polizia indaga sulla pista della droga ma non esclude altre ipotesi sconvolte le autorità locali avevo rubato i coltelli per difendermi perché in stazione a Milano c'è sempre chi vuole farmi del male non ricordo quel che ho fatto perché avevo assunto cocaina sono alcuni passaggi della deposizione del ventenne Tommaso Ismail Hosni all'udienza di convalida dell'arresto giovedì ha aggredito due militari e un agente è indagato anche di terrorismo o nuove ragioni di speranza abbiamo un'opportunità rara di portare stabilità e pace nella regione combattendo il terrorismo così il presidente americano Trump arrivando a Tel Aviv Israele tende la mano ai palestinesi le parole del premier israeliano Netanyahu Trump vedrà anche il leader dell'ANP e poi volerà a Roma dove mercoledì incontrerà il Papa Amici di Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che a livello europeo vede una zona di alta pressione allungarsi anche verso il Mediterraneo e l'Italia sta nel complesso una giornata tranquilla anche se nelle ore pomeridiane qualche temporale spunterà sulle zone montuose vediamo più in dettaglio la situazione a partire dalla nuvolosità prevista sul nostro paese appunto qualche nuvolamento si vedrà in particolare nelle regioni centro-meridionali e soprattutto sulla dorsale appenninica però qualche velatura di tanto in tanto nasconderà il sole anche nel resto del centro-sud come precipitazioni dicevamo il massimo che ci possiamo aspettare è qualche locale piovasco a ridosso delle zone montuose le macchioline blu che vedete comparire di tanto in tanto soprattutto nelle ore pomeridiane sono segnali di questi acquazzoni o temporali i classici piovaschi primaverili ora entriamo ancora più nel dettaglio vediamo con la nostra cartina quali sono le previsioni per la giornata avrete capito nel complesso situazione abbastanza buona un po' di instabilità interesserà le regioni centro-meridionali ma in particolar modo le zone interne e soprattutto temperature particolarmente miti al nord toccheremo i 30 gradi con questo è tutto per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Grazie a tutti